Caniello fa una cosa che è un record mondiale da medaglia al petto e dovrebbero dirgli guarda, riparti dalla Serie D nel 2024, se voglia, altrimenti la chiudiamo qui, non si può fare una cosa del genere. E poi sul VAR il protocollo, il quaderno a quadri, a righe, il protocollo, cioè se fai un errore così grave per me non esiste il protocollo, lo devi richiamare e gli devi dire io faccio un'escezione per te perché hai battuto il record mondiale su pista, con Milinkovic palla al piede, hai sanzionato un fallo che soltanto tu al mondo e io disdico il protocollo, io il VAR lo utilizzo anche se non devo utilizzarlo perché hai visto tu, ma siccome hai fatto una castroneria io ti devo correggere e Manganiello non può più arbitrare, dal mio punto di vista Manganiello non può più arbitrare.